Nuove ufficialità di mercato Dopo aver finito di commentare le amichevoli del giorno Arrivano anche ufficialità di mercato Sommer è il nuovo portiere dell'Inter Mentre Guerrero è un nuovo giocatore della Roma Se volete ditemi la vostra acquistatura e commenti Lasciate like, iscrivetevi al canale e condividete E noi ci vediamo con un prossimo E adesso iniziamo a dire la nostra Le 5 cose che vi ho detto prima costano poco 0 euro Fatelo, restate aggiornati Se vi piace il calcio E se siete nuovi iscrivetevi al canale Allora Sommer è il nuovo portiere dell'Inter Partiamo da questo qui Colpaccio Colpaccio 5-6 milioni Qualcuno potrà dire E vabbè 35 anni E vabbè l'anno prossimo di compi 36 E vabbè vecchio Cosa vorrà fare di più Sommer ha ancora tanto da dimostrare E lo dimostrerà in Italia L'anno prossimo E' un portiere forte E' un portiere di esperienza Noi italiani ce lo ricordiamo benissimo Questo brutto E' meglio che non dico nulla Però E' un portiere forte E' un portiere veramente forte E' un portiere che anche i rigori li sa parare Quindi è un vantaggio in più per l'Inter E' un portiere se vogliamo Come caratteristiche simile A Donana Quindi io direi che l'Inter Ha trovato il portiere perfetto Primo portiere E terzo portiere ci sono Adesso manca solo il secondo portiere Voto Rapporto quali da prezzo Un bel 8 Perché ha 5-6 milioni Sommer è un affare Invece Voto rapporto quali da calciatore Un bel 9 Più perché Sommer importa E' un grande portiere E' tanta roba Altro acquisto della Roma Un acquisto un pochino Così Guerrero E' un nuovo calciatore della Roma Arriva dal Real Madrid In prestito con diritto di riscatto E con il Real che avrà il 50% Sulla calciatore della recissoria Su una futura rivendita Scusate Per ora si aggregherà la primavera Però Mourinho lo vuole valutare Anche per quanto riguarda La prima squadra Colpaccio anche qui Un bel colpo Un bel colpo in prospettiva Perché comunque se questo giocatore qui In primavera ti fa gli sfraceli Ti cresce In prima squadra farà ancora ancora meglio Quindi questo qui Colpaccio in prospettiva Pazzesco La Roma Fa un colpaccio in prospettiva Semplicemente Pazzesco E soprattutto perché arriva dal Real Madrid Una cosa ancora più strana Perché il Real Madrid Di solito sui suoi giovani Si punta E a 17 anni Già sono titolare E già sono parlati a tutti Comunque Voto rapporto con il da prezzo Un bel 7 Voto rapporto con il da calciatore Un bel 6,5 Dobbiamo ancora guardarlo Come giocherà Questa è la mia opinione Su Il nuovo acquisto della Roma E Su Sommer Che è il nuovo portiere Dell'Inter Se volete Ditemi la vostra Questa è la mia opinione Lasciate like E iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Con un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi